SIGLA Chi era il Congo? Chi era il Congo? Chi era il Congo? Non ci fai messo Ci fai messo Te fai messo? Wow Che avrebbe una cosa? Come già rispondi E' un piccolo Che peccano Che te ne auguro il ruolo qui? E' un piccolo E' un piccolo Come so! Gumbare, hai s'nogga talago? Hm? Hai s'nogga talago? Oi, 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 l'entaxe. Non so come oggi. Ne, 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 ne. Ho di lì. Sì, sì, sì. Aspetta bene.